Discarica e biogas Sul paventato disastro ambientale Di cui ora parla Mimmo Amaturo Ex assessore ed ex presidente del lato Persona quindi competente Che in risposta al movimento autonomo di base Che aveva sollevato l'incredibile problema Fa chiarezza su alcuni aspetti Che sotto il profilo dell'inquinamento Fanno rabbrividire Amaturo affronta prima la questione crediti Denaro che difficilmente il comune potrà mai recuperare Perché fa notare l'ex amministratore Gli importi sono di gran lunga Inferiori alle somme che servono Alla messa in sicurezza della discarica Perché il biogas prodotto si è ridotto a pochissimo In quanto l'impianto è stato dimezzato E funziona con solo 300 kilowatt d'ora Invece di 1.260.000 kilowatt d'ora Il biogas spiega Amaturo non si produce Perché non viene aspirato il percolato Perché esiste una zona sequestrata Di cui non è dato sapere Se è stata dissequestrata E quali provvedimenti siano stati adottati Cosa che comporta la mancata creazione Dei pozzi di aspirazione Il convogliamento delle acque meteoriche Che, stante la nota rottura del manto impermeabile Porta in falda il percolato Cosa che impedisce la corretta produzione Ed aspirazione di biogas Creando situazioni Ed ecco la denuncia Di vero disastro ambientale Nelle scorse settimane Il ragionamento di Amaturo Deve essere stato fatto Anche dai carabinieri del NOE In sopralluogo sul sito In attesa di eventuali sviluppi Resta però il ragionevole dubbio Che quella di scarica Non fosse altro Per l'impossibilità Da parte di una società in liquidazione Di gestire la bonifica dell'area Possa diventare una sorta di bomba D'orologeria